ok riprendiamo la nostra discussione sugli sottinsiemi di r abbiamo visto la volta scorsa che se ho un dato insieme chiamiamolo a contenuto in r cioè un insieme di numeri reali questo insieme può ammettere dei maggioranti se ne ammette uno ne mette infiniti dei minoranti se ammette maggioranti e maggioranti è limitato se ammette solo maggioranti limitato e superiormente se ammette solo minoranti limitato e inferiormente se le mette entrambi si dice limitato e basta ok il più piccolo di tutti i maggioranti l'abbiamo visto essere l'estremo inferiore gli estremo superiore scusate mentre il più grande di tutti i minoranti l'estremo inferiore quando questi elementi appartengono insieme prende il nome di massimo e di minimo ok non tutti gli insieme però sono limitati ad esempio prendiamo questo insieme qui per esempio se hai fatto da tutti i numeri reali che ne so più grandi di 5 e quindi sull'asse reale questo è tutto r diciamo che c'è lo 0 1 2 3 4 qui c'è il 5 questo insieme è formato da tutti i numeri da 5 escluso quindi tutti i numeri da 5 giù sono minoranti quindi questo ha minoranti quindi è inferiormente limitato il suo estremo inferiore vale 5 che è il più grande di tutti i maggioranti di minoranti ma non esiste l'estremo superiore di a non c'è un numero più grande di tutti gli elementi di a ok quindi questo insieme è superiormente un altro esempio di insieme superiormente limitato è per esempio n i numeri naturali 0 1 2 eccetera eccetera questo in quanto sotto insieme di r nel contenuto in r il suo estremo inferiore è lo 0 che è anche il minimo ma non ha non esiste l'estremo superiore di n quindi n è superiormente illimitato non c'è un numero reale più grande di tutti i naturali facciamo ancora un esempio di insieme semplice inferiormente illimitato prendiamo questo esempio b potete di considerare tutti i numeri relativi numeri interi minori di 3 in questo caso se lo disegniamo sull'asse reale qui abbiamo 0 1 2 3 qui diamo meno 1 meno 2 meno 3 eccetera fanno parte di b il 2 il 1 lo 0 il meno 1 il meno 2 meno 3 eccetera eccetera quindi b ha estremo superiore che è 2 ok mentre non esiste l'estremo inferiore di b quindi è inferiormente illimitato mentre è superiormente limitato tutto z invece tutti i numeri interi col segno formano un insieme che sia superiormente che inferiormente illimitato ok è tutto chiaro? molto bene attenzione un'altra cosa che è opportuno chiarire quando abbiamo cominciato a parlare degli insiemi diversi anni fa il primo anno vi ricordate che abbiamo parlato di insiemi finiti e di insiemi infiniti e a quell'epoca la definizione di insieme finito era un insieme di cui riesco a elencare tutti i membri tutti gli elementi invece un insieme infinito è un insieme di cui non riesco a elencare la totalità dei suoi appartenenti adesso siamo in grado di dare una definizione più corretta e più precisa dell'infinità di un insieme immaginate quindi andiamo a vedere insieme quindi andiamo a vedere insieme quindi andiamo a vedere insieme finiti o infiniti immaginate di avere insieme fatto così questo lo rappresento quello del grafico con questo simbolo qualche volta si usa la diesis qualche volta si usano le barre si rappresenta la cardinalità di a cioè il numero degli elementi di a in questo caso la cardinalità di a è 3 perché? perché riesco a metterlo in relazione b univoca con i primi tre numeri naturali cioè posso assegnare a ognuno dei suoi elementi uno è un solo numero naturale e arrivo fino ai primi tre elementi ok? quindi due insiemi dico che hanno lo stesso numero di elementi cioè la stessa cardinalità se tra di loro posso costruire una relazione b univoca cioè metto ogni elemento del primo in relazione col secondo e viceversa ok? dico che due insiemi hanno la stessa cardinalità ovvero sia lo stesso numero di elementi se posso costruire una relazione b univoca tra di loro cioè ogni elemento del primo insieme ha una relazione con uno solo del secondo e viceversa e lo posso fare se solo se gli elementi dei due insiemi hanno la stessa quantità tra virgolette ok? immaginate adesso questa relazione all'interno di n numeri naturali prendiamo l'insieme dei numeri pari cioè 0,2,4 eccetera eccetera ok? noi prendiamo questa relazione qui c'è tutto n qui c'è tutto p è chiaro che p è contenuto in n p è un sottoinsieme proprio di n qui c'è questo 0,12,34 eccetera qui io 0,2,4,6 immaginate questa relazione il numero pari lo prendo come due volte n quindi con p che appartiene ai numeri pari e n ai numeri naturali quindi 0 in relazione con 0 e viceversa, 1 con 2, 2 con 4, 3 con 6 e così via. Quindi ogni numero naturale è in relazione con un solo pari e viceversa. Quindi la cardinalità di n è la stessa di quella di p, anche se p è un sottinsieme proprio di n. Quando questo succede, dico che questo insieme è infinito, cioè ogni volta che posso stabilire una relazione bionivoca tra tutto l'insieme e una sua parte, questo accade se e solo se l'insieme di cui parlo è un insieme infinito. Ripeto, i numeri pari sono un sottinsieme di n, cioè ci sono numeri naturali che non sono pari, quindi p è totalmente contenuto in n. Tuttavia, per ogni numero naturale posso associare un solo numero pari, quindi i numeri naturali sono tanti quanti i pari, non ce ne sono di più. Questo succede solo se l'insieme di cui sto parlando è un insieme infinito, perché se fosse un insieme finito non potrei mai costruire una relazione bionivoca tra l'insieme e una sua parte. Ti faccio un esempio. Immagina di avere questo insieme a 2, 3 e 4 e questo 1, 2, 3 e 4 e questo b, 1, 2 e 3. Tra questi due posso costruire una relazione bionivoca. 2 con 2 e 3 con 3, con b contenuto in a. Però il 4 rimane fuori. Quindi, essendo a e b finiti, non posso costruire una relazione bionivoca tra a e una sua parte. Perché se b è contenuto in a, ed è finito, vuol dire che la sua cardinalità, cioè i suoi elementi, sono in numero inferiore ad a. E quindi in ogni caso posso mettere tutti gli elementi di a in relazione con uno e uno solo di b e viceversa. In questo caso non posso farlo perché gli insemi sono finiti. Cioè la loro cardinalità è un particolare numero naturale, grande quanto vuoi, ma è un numero naturale. Invece la cardinalità di n non è un numero naturale. Si usa questo simbolo, la cardinalità di n, che ripeto non è un numero, è uguale a questo oggetto. Questo 8 rovesciato prende il numero di infinito. Ecco in che senso si dice che un insieme è infinito. D'accordo? È infinito un insieme quando posso stabilire una relazione bionivoca tra tutto l'insieme e una sua parte. Come nel caso di n. I numeri naturali sono infiniti, non riesco ad elencarli tutti, d'accordo? Inoltre posso stabilire una relazione bionivoca tra n tutti i pari o tutti i dispari. Non importa quale sotto insieme. Ok? Attenzione c'è un'altra sottigliezza che vi mostro, ma ve lo mostrerò velocemente. Non tutti gli infiniti sono infiniti dello stesso tipo. Esistono infiniti, infiniti tipi di infiniti, molto più numerosi alcuni di altri. Immaginate, fatemi farlo, qui mi interno con l'asse reale, se presento su tutto l'asse reale, per rappresentare i numeri naturali, avevo visto lo 0, l'1, il 2, il 3 e via dicendo. N, i numeri naturali, sono un sotto insieme di R. Se n è un insieme infinito, è chiaro che lo è anche R. Non può avere cardinalità inferiore a una sua parte, a un suo sotto insieme. Ma che tipo di infinito è? Beh, ci arriviamo per gradi. Immaginate di prendere un segmento. A, B. Che ha una certa lunghezza, è differente quale. E di prenderne un altro, più piccolino. C, D. Quanti punti contiene A, B e quanti punti in C, D? Cioè, sono più numerosi i punti in A, B o sono più numerosi i punti in C, D? Sono esattamente lo stesso numero. Quante, quale relazione c'è tra quanti punti sono in A, B e quanti punti in C, D? Sono esattamente lo stesso numero. Perché? Perché è molto facile stabilire una relazione bionivoca tra questi due insiemi. Immaginate di prendere la retta che passa per AC. Ok? Questa interseca CD in C è AB in A. Quindi l'intersezione è una sola. E poi la retta che passa per BD. Che incontra la prima in questo punto. Tutte le rette comprese tra queste due, fatemi indicare in rosso, intersecano entrambe una sola volta CD e una sola volta AB. Quindi per ogni punto del segmento CD ne esiste uno solo di AB. Quindi i punti di questo insieme CD sono in relazione bionivoca con quelli di AB. Quindi, nei due segmenti, la cardinalità di CD è identica a quella di AB. Quindi, indipendentemente dalla lunghezza dei due segmenti, posso stabilire che hanno lo stesso numero di punti. Quant'è questo numero? È un infinito, ma è un infinito molto più numeroso di N. Perché? Perché in realtà non è neanche necessario che uno dei due segmenti sia limitato. Può essere illimitato. Possiamo dimostrare che su un segmento, per quanto piccolo, ci sono esattamente tanti quanti punti ce ne sono sull'intera retta reale. Né uno di più, né uno di meno. È abbastanza facile farlo. Seguitemi se... Se... Vado abbastanza piano. Immaginate di prendere la retta reale. Ok? Illimitata di qua e di là. Questo è tutto R. Prendiamo lo 0, un punto qualsiasi. E prendiamo un segmento centrato sullo 0. Vedete che questo sia AB. Dimostriamo che in AB ci sono tanti punti, quanti ce ne sono su tutto l'asse reale. Immaginate di prendere una semicirconferenza di diametro AB tangente alla retta del punto medio. Quindi, fatemela disegnare in questo... No, scusate, in questo modo più o meno. Fatemela disegnare in rosso. Questa è una circunferenza e questo... Scusate, un po' un secondo... È lungo come AB. Ok? Questo è il centro della circunferenza. Immaginate adesso di prendere una semiretta che esce da O. E che interseca la semicirconferenza nel punto, chiamiamo questo... Qui c'è B, B è qua. Scusate, un secondo, devo disegnare un poco meglio. Interseca la semicirconferenza in questo punto, chiamiamolo P. E in questo punto la retta chiamiamolo Q. E' chiaro che per ogni P c'è un solo Q e viceversa. Dopodiché proiettiamo P sul segmento AB. E qui otteniamo un altro punto, chiamiamolo come, C. Quindi, al variare dell'inclinazione della retta, OQ, per ogni punto C ha un solo Q e viceversa. Ma, per quanto la retta cambia di inclinazione, C sarà sempre compreso tra A e B. Se la giro dall'altra parte, per esempio, avrà un punto da questa parte e un punto qui. Quindi il punto C è compreso tra A e B. Il punto Q è su tutta la retta reale. E tra questi punti c'è una relazione 1 a 1. Per ogni Q c'è un solo C e viceversa. Quindi, il numero di punti contenuti nel segmento AB è esattamente lo stesso numero di tutti i punti contenuti su R. Che quindi è infinitamente più numeroso dei punti, dei numeri naturali. Perché abbiamo visto che i numeri naturali sono un sottoinsieme di R. La cardinalità di un segmento, O di R, dice che è un numero transfinito, è la potenza del continuo. Quindi ci sono infiniti tipi di infiniti. Quello dei numeri naturali è un infinito, quello dei numeri reali è un infinito di tipo completamente diverso. Per quanto piccolo sia AB, contiene tanti punti quanti l'intera retta reale. L'infinito è un concetto molto affascinante, ma anche complesso. Questa è una breve illustrazione di quante possono essere le sue facce. Il numero, anche se è improprio dire, il numero di numeri naturali è infinito, ma infinito, ripeto, e sottolineo, non è un numero. Attenzione. A breve vedremo il perché. Ma ci sono, ahimè, o per fortuna, sistemi o insiemi molto più numerosi dello stesso N. Per esempio, un segmento. Un segmento contiene molti, infinitamente più punti di quanti non ce ne siano in tutto N. D'accordo? Un modo per rappresentare, tutto chiaro fin qui, anche se insomma abbiamo messo molta carne al fuoco. Immaginate di tornare al nostro asse reale. Questo è tutto R. E immaginate di un segmento, chiamiamolo, se questo è A e questo è B, tutti i punti compresi tra A e B. Ok? Se ai nostri punti diamo delle coordinate, mettete che qui arrivi, ci sia la coordinata 3 e qui la 5, ok? Quindi qui c'è il 4, il 2, via dicendo. Quindi possiamo assegnare ad ogni punto un numero. Il segmento A, B, posso immaginarlo come l'insieme di punti individuati da coordinate, che sono numeri reali, compresi tra la coordinata di A, che è il 3, e quella di B, che è il 5. Ok? Qua dentro ci sono tutti i numeri tra 3 e 5. Con 3 e 5 è escluso, quando è escluso faccio il pallino vuoto. ok? Questa è una scrittura che abbiamo già visto moltissime volte, giusto? Un sottoinsieme, e questo è contenuto tutto in R, sottoinsieme di R. Un sottoinsieme di R di questo tipo, cioè che contenga tutti i numeri tra due estremi, prende il nome di intervallo di numeri reali. Attenzione! Questa non è la definizione precisa di intervallo, ci arriviamo tra un attimo. Immaginate, vi ricordate l'insieme che abbiamo visto la volta scorsa di tutte le frazioni naturali? Qui è tra 0 e 1, quindi un mezzo, c'era 1, un mezzo, un terzo, un quarto, eccetera. Ok? Tutte le frazioni naturali, 1, un mezzo, un terzo e così via. Questo insieme non è un intervallo. Perché? Perché l'intervallo posso rappresentarlo come un segmento. Questo insieme non lo è. È un insieme di punti, come diremo, impreciserò a breve, che posso chiamare invece isolati. Cioè tra 1 e un mezzo non ci sono altri elementi di questo insieme. Non ho frazioni diverse che abbiano un valore compreso tra 1 e un mezzo. Tra questo punto e questo non ne ho altri. Mentre nel nostro segmento qualunque copia di punti io prenda qua dentro, diversi, tutti i numeri compresi tra questi due sanno anche se si parte di A e B. Perché è un segmento. Se contiene tutti i punti tra A e B. Ok? Questa proprietà è chiara la differenza. Questa proprietà la usiamo per definire l'intervallo. Detto in termini terra-terra ma questo non ripetetelo l'esame perché è una cosa giusto per farvi capire che cosa vuol dire. l'intervallo è un sottoinsieme di numeri reali che non ha buchi mentre questo insieme è pieno di buchi perché tutta la parte tra 1 e un mezzo tra un mese e un terzo è un buco non c'è niente dentro non ci sono altri numeri di questo insieme. Quindi definizione l'insieme A che è sottoinsieme A eventualmente improprio di R è un intervallo se succede la seguente cosa qualunque coppia di numeri x e y elementi di A con x più piccolo di y se prendono due numeri qualsiasi che fanno parte di A e che sono diversi diciamo che uno è più piccolo dell'altro che x è più piccolo di y allora deve succedere questo qualunque numero reale z che sia compreso tra x e y e anche elemento di A se questo succede allora l'insieme A è un intervallo che è quello che succede per i segmenti nel segmento AB se io prendo la mia x e la mia y in questi due punti qualunque altro elemento che sta tra x e y anch'esso è parte di AB qui invece per tutte le frazioni intere unitarie non succede perché se prendo x che vale 1 e y che vale 1 mezzo tutti i numeri reali tra 1 e 1 mezzo non sono parte dell'insieme che sto considerando quindi questo non è un intervallo attenzione un intervallo non è necessariamente limitato sono intervalli tutti i segmenti ma anche le semirette se io prendo sulla retta reale tutti i numeri o tutti i punti a destra di P questo è un intervallo prendo i punti da qui in su questo è un intervallo perché verifica la proprietà che abbiamo appena dato qualunque copia di punti io prenda tutti i numeri compresi tra questi due sono anch'essi parti di questi insieme questo è un intervallo superiormente illimitato ma è pur sempre un intervallo la stessa retta reale per sua stessa natura è un intervallo un intervallo illimitato sia superiormente che inferiormente ok normalmente è chiaro fin qua un intervallo limitato si può rappresentare in questo modo chiamiamolo abbiamo chiamato prima A tutti i numeri reali compresi ad esempio tra l'estremo inferiore A piccolo e l'estremo superiore B piccolo prima erano 3 e 5 non potrebbero essere numeri qualsiasi con A e B reali in questo caso A l'estremo superiore B l'estremo inferiore si usa si usa utilizzare una scrittura così più compatta si riportano i due estremi A e B separati da un punto e virgola e per indicare che gli estremi non sono inclusi si usa le parentesi quadre aperte verso l'esterno oppure le parentesi tonde però questa scrittura con le tonde può essere confusa con le coordinate cartesiane quindi io preferisco sicuramente questa se invece la parentesi è chiusa verso l'interno chiamiamo questo definiamo B l'insieme di numeri reali compresi e uguali A da A e B allora la scrittura con cui divido questo intervallo è con le parentesi quadre ma rivolte verso l'interno questo significa che gli estremi sono inclusi ok quando gli estremi non sono inclusi l'intervallo si chiama aperto questo è l'intervallo aperto se nessuno dei due estremi è incluso se gli estremi sono inclusi si parla di intervallo chiuso ci sono tutti e due i casi intermedi se gli estremi semi aperti e semi chiusi vediamo questo per esempio l'insieme dei numeri reali con A minore uguale a X minore di B questo è un intervallo che è chiuso a sinistra aperto a destra questo è semi aperto o se preferite semi chiuso oppure posso avere la situazione inversa tutti i numeri reali con A minore di X minore uguale a B questo è un intervallo aperto a sinistra e chiuso a destra anche questo è semi aperto ok tutto chiaro? attenzione considerate considerate questo insieme chiamiamolo D tutti i numeri reali che siano per esempio più piccoli di 3 oppure compresi tra 5 e 7 questo insieme è un intervallo andiamo a rappresentarlo graficamente questo forse aiuta qui c'è R qui c'è 3 4 5 6 e 7 qui abbiamo il nostro D è da 3 escluso in giù e da 5 a 7 verifica la definizione di intervallo la risposta è evidentemente no perché perché la definizione dice torniamo un attimo sopra dice attenzione alle preposizioni agli avverbi qualunque coppia x y io prenda qui è vero che posso prendere una coppia di numeri qua dentro o qua dentro ma quella non è una coppia qualunque se io prendo x in questo punto e y in questo non è più vero che tutti gli elementi tra x e y appartengono all'insieme perché qui manca tutta questa parte questa parte è vuota se z sta qui z non appartiene all'insieme quindi questo non è un intervallo infatti posso vederlo come l'unione di tutti i numeri a sinistra di 3 uniti a quelli tra 5 e 7 questi si sono due intervalli ma lo sono separatamente questo è un intervallo per conto suo se lo considerassi da solo questo sarebbe un intervallo per conto suo quindi morale della favola se unisco due intervalli non è detto che abbia un intervallo se invece intersego più intervalli quindi se intersego più segmenti o ancora un segmento questa è una differenza importante ok quindi l'unione di più intervalli chiamiamoli i1 i2 i3 eccetera in generale non è detto che sia un intervallo mentre l'intersezione i1 intersecato i2 eccetera eccetera normalmente è un intervallo se non è vuoto d'accordo? in realtà la nozione di intervallo l'abbiamo già trovata molte volte perché ogni volta che risolviamo una disequazione normalmente la 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 soluzione è un intervallo o un'unione di più intervalli questo è quello che otteniamo risolvendo una disequazione per esempio fratta di secondo grado ok però stavolta adesso abbiamo chiarito che cosa si intende per intervallo come lo si rappresenta ok sottolineo ora una volta attenzione gli intervalli possono essere benissimo anche non limitati sia superiormente che inferiormente un utile modo per pensarli è questo l'intervallo può essere immaginato come un segmento oppure una semiretta o una retta addirittura d'accordo? mentre l'insieme che abbiamo visto l'altra volta cioè quello delle frazioni unitarie sicuramente non è un segmento perché contiene solo punti ben separati l'uno da tutti gli altri qui invece c'è un segmento per quanto io zoom l'immagine del segmento dove era? qua sopra ecco per quanto io espanda AB non riuscirò mai a vedere punti distinti da B separati da altro d'accordo? questa è la principale differenza proprio perché come abbiamo visto prima in AB ci sono tanti quanti sono i punti dell'intero asse reale ci sono domande su questa d'accordo? vi ricordo ancora una volta come gli si rappresenta se ho un insieme un intervallo limitato con due quindi due estremi A e B finiti posso utilizzarlo normalmente su tutte queste scritture con le parentesi quadre aperte verso l'esterno per indicare che è aperto verso l'interno per indicare che è chiuso e poi le combinazioni miste chiuso a sinistra aperto a destra chiuso a destra aperto a sinistra quindi questo intervallo il primo A è un intervallo che non contiene i suoi estremi quindi A massimo è estremo superiore inferiore ma non a massimo e minimo insieme a B intervallo chiuso contiene sia A che B quindi A è il minimo B è il massimo C contiene l'estremo inferiore quindi è il minimo ma non contiene l'estremo superiore quindi non a massimo e infine l'estremo in intervallo D tutti i numeri tra A e B con A escluso e B incluso contiene l'estremo superiore che diventa il suo massimo ma non ha il suo estremo ma non ha minimo perché A non è contenuto l'insieme ok tutto chiaro molto bene detto questo direi che possiamo anche fermarsi qua però